Trasportavano illegalmente cuccioli di cane, per questo la palostrada ha fermato due persone di 27 e 51 anni in a uno a bordo di un utilitario e hanno trovato una sorpresa all'interno dell'auto. C'erano infatti otto teneri cagnolini. I due uomini originari della campagna sono stati fermati domenica scorsa vicino all'uscita di Arezzo. Sul sedile posteriore trasportavano due ceste di plastica con ritagli di giornale sul fondo. All'interno delle ceste erano stipati ben otto cuccioli, tutti chihuahua o volpini, di tre mesi di vita. I cani erano purtroppo in pessime condizioni e nessuno era provvisto della necessaria documentazione. Sul posto è arrivato quindi un altro equipaggio e gli investigatori hanno accertato che i due uomini si erano procurati i cani in un paese dell'Europa dell'Este ed erano rientrati poi in Italia da Trieste per piazzarli sul mercato nero in campagna. I loro piani sono saltati perché gli otto cuccioli sono stati presi in consegna da un veterinario e appena si rimetteranno saranno dati in adozione. La Polstrada ha denunciato le due persone fermate per traffico illecito e maltrattamento di animali, l'auto è stata sequestrata ed è scattata anche una sanzione per oltre 8.000 euro. Alla Polizia Stradale sono già arrivate tantissime richieste per avere in affidamento questi splendidi esemplari.